Su Macin si è confermato l'incontro con Preziosi mercoledì a Milano, soprattutto perché oggi Macin è stato escluso per la seconda volta nelle ultime tre partite, ho sentito il suo procuratore Donato Di Campri piuttosto arrabbiato per questo, potrebbe succedere qualcosa? Ma non succede nulla, Donato è un procuratore e anche un amico, secondo me i procuratori però devono stare a posto loro perché non sono loro che fanno le formazioni e non sono loro che guardano durante la settimana il lavoro dei ragazzi, Macin non è stato assolutamente escluso perché deve essere venduto, è una scelta tecnica del mister perché la settimana scorsa era indicato in un altro ruolo, questa settimana ha deciso di tenere fuori così come ha deciso di tenere fuori tanti altri ragazzi e se tutti quanti quelli che stanno fuori cominciano a far parlare i procuratori e allora buonanotte diventa un mercato della frutta. Daniel Ciofani, nome che oramai è sulla bocca di tutti, è un'ipotesi possibile o è fantacalcio? Ma secondo me non è un'ipotesi possibile solo perché il Frosinone non ha mai detto se lo vuole togliere, soprattutto il ragazzo non è che vuole andare via. Daniel Ciofani sta a Frosinone, come è che sta a Roma, quindi è difficile che vada via da Frosinone dopo aver conquistato una Serie A dove ha messo tanto del suo. Se dovesse negli ultimi giorni, nell'ultimo minuto, esserci la possibilità, sicuramente noi sarebbe un giocatore di circo. Ecco, un profilo come Ciofani è uno di quelli che ti può far fare il salto di qualità. Si potrebbero ristringere gli spazi per Melchiori che ieri non ha giocato ufficialmente per infortunio, ecco quali possibilità ci sono? Io credo che sul Melchiori proprio non ci siano possibilità. Non ci siano possibilità perché il presidente del Perugia, giustamente un giocatore suo, valuta il ragazzo tanto e onestamente una squadra di FGP non può spendere quei soldi per un giocatore oramai di un'età già avanzata e che non rappresenta un patrimonio per la società, quindi non esiste proprio.